con la vita frenetica di oggi a chi non viene voglia ogni tanto di fermare tutto staccare la spina e sparire per un po come con i superpoteri adesso sparisco bella tata e simona chi ha i superpoteri io invece devo stare qui a sopportare il dottor squalozzi i superpoteri farebbero comodo ma per staccare la spina non ce n'è bisogno se avete 10 minuti al giorno ecco 5 modi trendy e sani per staccare la spina che potete fare quasi ovunque sono tanto facili quanto inaspettati e funzionano parola della naturopatia e della scienza se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 bere una tisana inizio dal mio preferito perché per me non c'è niente di meglio di una bella tisana calda e fumante che calma il corpo rasserena la mente riscalda il cuore e rinfranca lo spirito le mie preferite sono quelle della food spring sono tre una per ogni momento della giornata mattina pomeriggio e sera ho spiegato come usarle in questo video andate a vederlo perché con il mio codice promo vignali yt avete anche il 15 per cento di sconto tra parentesi istruzioni e link in descrizione 2 sdraiarsi mi faccio un pisolino non serve basta stare sdraiati per 10 minuti ma in silenzio cercando di rilassarsi e staccare la mente dai pensieri concentratevi sul respiro e lasciate che i pensieri fluiscano come l'acqua del fiume non sono più a far vostro passano e scorrono via ma che bella immagine gli amici abbonati al canale trovano la mia meditazione guidata che fa scorrere via tutti i pensieri non sei ancora abbonato fallo anche tu info in descrizione 3 profumi l'olfatto è un senso potente e annusare qualcosa di buono è un metodo velocissimo per ritrovare buon umore calma serenità e anche performance sul lavoro per esempio un diffusore di profumi e di aroma di oli essenziali è un'ottima soluzione olfattiva lo spiega nel dettaglio questo articolo uscito su scientific american vi lascio il link in descrizione insieme alle mie miscele preferite di oli essenziali quelle che riempiono l'ambiente di profumi paradisiaci ma tutti naturali non chimici parlando di paradiso fate i bravi aiutatemi a far crescere il buon lavoro che faccio qui su youtube iscrivetevi attivate le notifiche più siamo e più ci aiutiamo io con tanti altri video consigli e voi con il vostro contributo anche economico se vi abbonate al canale grazie 4 pausa dalla tecnologia sapevate che in tutti gli smartphone c'è un'opzione che si chiama aereo certo che lo sapete ma non serve volare possiamo attivare questa funzione per fare una pausa consapevole di 10 minuti dal flusso ininterrotto dei social e delle news niente notifiche niente chiamate niente internet solo voi è il relax da provare 5 musica la musica ha un grande potere sulle emozioni e sulla capacità di rilassarsi per questo scopo consiglio musica senza parole cantate altrimenti la mente segue i testi e non si ferma scegliete la vostra traccia preferita mettete le cuffiette o accendete lo stereo e sprofondate nel divano per 10 minuti a proposito di musica sto preparando una sorpresa musicale per tutti voi amici stay tuned per saperne di più e notizie arriveranno a breve ogni giorno è importante trovare almeno 10 minuti di tempo per noi stessi e se li usiamo per il relax e la pace interiore tutta la giornata migliora se ami anche tu la salute natura se ami anche tu la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao va bene la faccia me faccio un pisorino